Martedì rovente, non solo per le temperature pienamente estive, che sarebbe stata una corsa contro il tempo per il Teramo, c'erano pochi dubbi che si sarebbe arrivati davvero sul filo di lana era poco preventivabile e certamente poco auspicabile. Sulla base dell'istanza presentata da Davide Ciaccia per il reperimento delle risorse necessarie all'iscrizione al campionato di Lega Pro è arrivata la decisione del Tribunale di Roma. Visto lo sforzo economico già compiuto, si legge per portare a termine il campionato, considerata la situazione delle società in sequestro, visto il reperimento di un finanziamento di euro tra 150.000 da parte dei soggetti portati da Davide Ciaccia, la copertura finanziaria per la fideiussione deve essere sostenuta dal socio di minoranza al 40%. Firmato amministratore giudiziario, un ulteriore tassello di una giornata che non poteva non essere convulsa e che si era aperta in mattinata col versamento degli stipendi ai tesserati relativi alle mensilità dovute, aprile e maggio, e propedeutiche al rilascio delle liberatorie indispensabili alla presentazione della domanda di iscrizione. Giornata proseguita poi ad ora di pranzo, con il comunicato della società Biancorossa che ufficializzava i pagamenti nel rispetto della scadenza federale, lamentando come alle 14.30 di oggi, martedì 21 giugno, Teramo Calcio non ha ancora ricevuto alcun feedback dal Tribunale di Roma circa il necessario assenso per la continuità aziendale del club. Infine, la risposta del foro Capitolino che mette la parola fine alla diatribe apre la questione più importante, ovvero quella dell'iscrizione. Comunicazione, quella dell'amministratore giudiziario che si chiude con un auspicio, ovvero che vi siano i termini per un adeguato intervento per le finalità di campionato 2022-2023, non si è fatta attendere la risposta di Franco Iacchini rispetto alla decisione. Il sottoscritto sta facendo la sua parte, prestando fideiussione personale con un pegno di 350.000 euro di collaterale già pronto, che verrà eseguita dopo che la Teramo Calcio pagherà i suoi debiti nei confronti della Soleia ed anticipando parte del costo dell'utilizzo dello stadio per la prossima stagione. Mancano poco più di 24 ore per presentare la documentazione e chiudere una partita in ogni caso sfibrante per tutti i protagonisti e per una piazza, che ancora cerca di sapere se sarà ai nastri di partenza della prossima stagione.